Io spero proprio di no perché sarebbe un atteggiamento irresponsabile, però a pensare male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca. Una finanziaria di questo genere, una legge di stabilità di questo genere, piena di caramelle avvelenate, non può che far pensare male. Io sto cominciando a pensare male. Spero solo che i cittadini italiani, gli elettori italiani non si comporteranno come per le elezioni europee e capiranno l'imbroglio perché siamo veramente in una area di imbroglio e, ripeto, non temiamo tanto l'Unione Europea, i giudizi di Katainen piuttosto che di Juncker, ma io temo i giudizi dei mercati perché è bastato un accenno della Grecia a voler uscire dal programma di rigore dopo sangue, sudore e lacrime e dopo anche i risultati buoni e i mercati si sono scagliati tutti contro la Grecia e si sono rifugiati tra le ginocchia dei Bund e di Angela Merkel. Ecco, quando i mercati si accorgeranno di questa legge di stabilità imbrogliona ci faranno lo stesso trattamento.